Abbiamo incontrato Vaugh Holland nella sede del Chaos Computer Club ad Hamburgo. Il Chaos Computer Club è un collettivo di hackers, o pirati della comunicazione, che oggi lavorano per lo più sui computer. Sono diventati internazionalmente conosciuti per le loro azioni dimostrative di intrusioni in banchi dati. Tra queste basti solo ricordare le provocazioni al sistema BTX, che sono costate alla banca centrale di Hamburgo 135.000 marchi in una sola notte. Due sono le impressioni che immediatamente si ricavano osservando l'ormai mitica postazione di Schwenkenstrasse 85. La prima è relativa alla volontà del Chaos Computer Club di essere completamente pubblico e visibile. La seconda, puramente estetica, che è quella di trovarsi in un'officina alchemica, con pezzi di computer o computer monstro ovunque. I fratelli sembrano preferire gli Atari, perché è più malleabile alle trasformazioni. Ma abbiamo visto anche un telefono incredibile, costruito con pezzi vari, provenienti da giochini elettronici e Walkman. Completamente assorbiti, anche se in modo non maniacale, dalla tecnologia e dalle sue applicazioni alternative, hanno sviluppato una nuova carta dei diritti dell'uomo relativa all'informazione. Un gioiellino di riflessione teorica e pratica sul problema strutturale fondamentale della fine del ventesimo secolo. Vau, raccontaci come è nato il Chaos Computer Club. Nel 1981 c'è stato a Berlino un incontro di diverse persone, nelle sale di un giornale, di Tagest Zeitung. Fu lì che si incominciò a parlare delle possibilità del computer e devo dire che ne uscima entusiasti. Ad esempio si vede che c'era la possibilità di riuscire a determinare con esattezza il consumo di energia elettrica di una città come Berlino, oppure fare un censimento delle case sfitte e distribuire questi dati al movimento delle occupazioni. In sostanza si capì che chi ha il potere in questa società trae parte di questo potere dall'elaborazione dei dati e che non solo la polizia o il potere potevano utilizzare le banche dati, ma che anche noi potevamo farlo. Così abbiamo cominciato a lavorare su queste banche dati, ma questa cosa presentò subito delle difficoltà, perché in questa società l'organizzazione della comunicazione è chiusa. In una banca dati di conseguenza puoi trovare solo dati di un certo tipo, è quindi necessario un confronto fra i vari tipi di dati, cioè creare una comunicazione di tipo aperto. Per questo abbiamo iniziato a fare dei meetings internazionali in cui poter confrontare dati ed esperienze. Il primo di questi incontri, al quale parteciparono circa 500 persone, si tene ad Hamburgo nel 1984 e c'erano molti computer, strumentazioni per la telefonia e fotocopiatrici che sono le macchine più semplici per distribuire informazione. Da questo confronto ci si è reso conto che lo scambio di informazioni e di riflessioni sulla creazione di una struttura aperta di informazione poteva essere effettivo e che, come valenza sociale, poteva essere paragonato da una bomba atomica. Solo una potenza come quella nucleare può infatti scardinare la struttura della gestione attuale dell'informazione, ma a noi sembrava di averla nelle mani. E così nacque la pratica del Leckin, che definirei come quella pratica che ti permette di essere dentro una situazione appena questa accade e di poter da questa creare dei nuovi significati. Ma allora, Vau, qual è il vostro rapporto con la tecnologia? È il rapporto tra la tecnologia e la comunicazione. Beh, gli strumenti che ti permettono di fare queste cose sono tecnologici e già me ne ho resi conto quando andavo a scuola ed ero coinvolto nel movimento. Una volta volevamo incastrare un professore che faceva dei discorsi fascisti. Allora mi portarei un grosso registratore, all'epoca quelli portatili erano enormi, e lo misi sotto il banco e riusci a registrare le sue parole. Avevamo lì la prova di quello che diceva e potevamo buttargli in faccia. Ehi, tu hai detto queste cose. Da qui si vede come anche un registratore possa diventare una macchina di potere. Tutto ciò che registra e copia può diventare una macchina di potere. Prova a pensare a quello che potrebbe succedere se durante un'occupazione dell'università venissero trovati da degli studenti degli studi su delle applicazioni militari e che questi fossero copiati e distribuiti in tutto il paese. Non solo nessun militare potrebbe negare la loro esistenza ed il loro scopo, ma anche la tecnologia utilizzata potrebbe diventare di dominio ed uso pubblico. Certo, per realizzare ciò è necessario fare un lavoro collettivo ed è su questa strada che ci siamo mossi, organizzando con regolarità dei meetings e delle esercitazioni pratiche sui media. Una di queste è stata ed è sul phone freaking. Il telefono è il media più diffuso ed esisteva molto prima dei computer. Tutti, anche solo per gioco, hanno provato a fare dei piccoli esperimenti con il telefono, ascoltando le interferenze, tentando di fare dell'interurbano, utilizzando solo una moneta e cose del genere. I primi esperimenti di phone freaking furono fatti negli Stati Uniti negli anni 70 e noi abbiamo cercato di adattarli agli standard telefonici tedeschi in modo tale da renderli pubblici e praticabili da tutti. Ora, con le conoscenze che abbiamo, possiamo fare, abbiamo insegnato a fare, telefonate gratis utilizzando vari sistemi. Ad esempio c'è uno semplicissimo che consiste nel battere velocemente più e più volte l'interruttore sul quale si appoggia la cornetta. Un altro l'ha inventato un francese e consiste nel mettere un filtro che blocca il contascatti direttamente alla centralina della compagnia dei telefoni, utilizzando una frequenza costante di circa 16 kHz lanciata a distanza. Questa frequenza viene interpretata dal relay della centrale come segnale della chiamata urbana. Il relay si chiude e resta bloccato fino alla fine della chiamata, segnando solo uno scatto anche se parli quanto vuoi. In ogni caso però la nostra attività principale si è sviluppata sui computer e sulle forme di hacking a queste relative. Con questa pratica entri nelle banche dati, ti fai un giro, dai un'occhiata a quello che c'è e collezioni informazioni. Lo spirito col quale entriamo è però di tipo comunitario, cioè prendiamo informazioni relativamente all'uso sociale che se ne può fare. Facciamo dell'hacking sociale in sostanza. Questa cosa ci permette di non essere clandestini e di avere possibilità ampie, come quando i verdi ci hanno chiamato per fornire la nostra conoscenza tecnica alla maggioranza del governo sul problema dell'informazione applicata all'ecologia, settore sul quale pensiamo di avere il know-how più sviluppato in Germania. Alla fine i verdi hanno avuto paura di noi e hanno chiamato al nostro posto una grossa compagnia, ma questa cosa ci ha permesso di far nascere un ampio dibattito sul problema dell'informazione e sulla segretezza delle informazioni e di farci considerare osservatori delle dinamiche sociali ed organizzatori delle informazioni ad esse connesse, più che hackers che lavorano sui computers. E poi ci siamo costruiti una rete informatica organizzata in modo tale da non poter essere controllata. Infatti essa non è gerarchica, ma è caotica ed è impossibile, molto difficile, partendo da un nodo della rete di questa, risalire a tutta la rete complessiva. Questo è stato necessario perché tempo fa è successo che un coordinamento che lavorava con una rete informatica contro il nucleare è stato bloccato dal governo proprio al momento di preparare le manifestazioni. Uno dei nostri scopi poi è quello di creare un circuito di informazione che funzioni anche se non piace al governo ed in questo senso ci siamo dovuti cautelare e forniamo i modi per cautelarsi. Ma Vau, non pensi che la tecnologia in quanto creata dal potere proprio per questo contenga già in sé delle contraddizioni? Ma anche se è vero che in fondo la tecnologia è creata dal sistema, per me è essenziale ricordare che è necessario che esista un creatore di questa tecnologia. Il creatore della tecnologia riflette sull'esistente e cerca di costruire macchine che facciano le cose in un modo nuovo. Noi con il nostro lavoro e le nostre pubblicazioni cerchiamo di fornire strumenti ed idee. Ogni volta che tu ti confronti con un prodotto tecnologico, ti confronti infatti con le idee e le conoscenze che vi stanno dietro. Ogni macchina, ogni progetto non sono mai solo una macchina o un pezzo di carta, ma una risorsa di pensiero. Ogni invenzione quindi è un'invenzione sociale ed in questo senso bisognerà portarvi, ci sì, ed utilizzarla. Per di più lo sviluppo delle tecnologie e dell'informazione ha creato nuovi bisogni per un fondamentale diritto umano che è quello del libero, illimitato e non controllato scambio di informazioni. E questo sta alla base di tutta la nostra pratica, che più che essere ideologica cerca di essere un'effettiva nuova forma di cooperazione tra la gente. Poi dei primi hackers ai cyberpunks sono cambiate molte cose, che è difficile definire anche perché, primo, viviamo in un villaggio globale e secondo perché le generazioni non si definiscono più tanto in termini di età, quanto piuttosto per la comunanza di esperienze. Così anche nel Chaos Computer Club faccio veramente fatica a distinguere con esattezza il succedersi delle varie esperienze degenerazionali. È veramente un club caotico e pazzesco. Ma wow, cosa ne pensi del cyberpunk? Rispetto al cyberpunk ricordo che le mie prime impressioni, dopo aver letto Neoromante qualche anno fa, furono che quella non era fantascienza, ma realtà, il presente è descritto in un modo un po' particolare. C'era anche qualcuno che gli dava un giudizio negativo e dal momento gli era venuta voglia di scrivere un'altra storia, anche perché il club non lavora a scopo di lucro e neanche con e per il governo, come invece accade per i personaggi di Neoromante. La cosa che ci sembrava più attinente alla nostra esperienza era verificare come fosse reale e pressante il potere delle multinazionali dell'informazione e in ogni caso nella nostra cyber realtà bisogna stare attenti ad evitare che i computers diventano un feticcio e che chi lavora diventa un computer dipendente. Per quanto riguarda la comunicazione, ad esempio, c'è una grossa differenza qualitativa tra bit e significato, in quanto il bit, cioè l'elemento fondamentale dell'informazione, l'elemento unitario, elementale, il bit è qualcosa di vuoto e che appunto non produce senso, se non quando si arricchisce col significato, quindi solamente quando comunica, quando c'è il dato tecnico, viene accostato da un elemento vivo. La comunicazione deve svolgersi in ultima analisi tra due persone e non tra uomo e macchina. Il computer è solo uno strumento e nient'altro. Io lo uso e cerco di fare ogni passo, come del resto mi rapporta di un'esperienza della vita, con divertimento. Non ho mai pensato che fosse uno strumento universale. La nostra filosofia è una sola, libertà, ed in questa prospettiva cerchiamo di lavorare, attraverso lo scambio di idee sociali ed invenzioni sociali con le altre persone, imparando da queste e insegnando loro ciò che noi sappiamo. E ricorda che ogni informazione è anche deformazione. È come costruire una bottiglia, partendo dal materiale grezzo e fuso, con le tue mani, attraverso il processo di informazione, tu dai una forma precisa a quel materiale che prima non era in forma e deformandolo otterrai la tua bottiglia, otterrai un strumento per scambiare idee. No English on school, only Latin, Greek and French. The thing was English, you learn all the ways, that's normal. No English on school, not important. No English on school, not important. Willi. No. No, no. No, non socks, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. I don't know how long